Bella ragazzi, io sono FGFail e vabbè già sapete tutta... ma che cosa... ma scusate mi stavo girato dalla parte sbagliata Dopo questa gag pessima direi che possiamo tornare, tornare a fanqu... qui? Ma che sto? Mi dice niente però perdona... non me lo dice che palle, voglio sapere dove stanno le cose... vabbè Perché set... che so sti sette cose? Oh... oh mio dio... ma mi raccoglie... Nel frattempo c'è un... golem... ma mi raccoglie i... minchi... mi raccoglie i minchi, mi raccoglie... questo non lo sapevo... Freezerite... posso farci un freezer? Per farci cosa? O il freezer... Scusatemi ma... frizzarite crystal però non è... frizzarite ore... Questa è da analizzare... non sapevo però che... prendesse delle cose e me le mettesse... infatti poi ho visto dentro qua... ho fatto... ma che cazzo... Quindi potremmo aumentare il power a sto punto... con i red meteor gem... io pensavo non servisse... Ma forse potrebbe... aumentare... l'efficacia... sicuramente della... del coso di bloccare le meteore... però magari anche l'efficacia di... raccogliere... sta roba... insomma... Va... vabbè... io comunque non ho più visto poi... cioè non me ne sono più arrivate... non me ne sono più... vabbè avete capito... quindi adesso... c'è un pellicano... che mi sta antipatico... tra l'altro... pellic... ano... ha... ha... andiamo qua va... che è meglio... è meglio... ho alzato un po' il volume... Perché ho visto che nel precedente episodio... forse era un pochettino bassino il volume... andiamo da l'each... andiamo da l'each... sempre qua che... sembra che cadiamo... andiamo da l'each... e ovviamente qua dobbiamo entrare in qualche modo... quindi entriamo con la forza... entriamo qua con la forza... non ci entriamo con la forza... perché siamo in acqua... entriamo così con la forza... scusatemi eh... deve avere un'apertura prima o poi sto stronzo... no perché siamo nelle fondamentà... quindi dobbiamo andare così... rompere qua... ed irrompere... in questo posto che mi sembra già... che faccia abbastanza cagare... perché ci sono tutte... queste ragnatele... e qui ci sono le librerie infinite... ci dovrebbe essere qualche chest... e ci sono... ci dovrebbe essere anche qualche stronzo... però io così non riesco a lavorare... quindi mi servono le torcue... ok... perché altrimenti non vedo una mazza... allora... quindi... o qua ci sta qualche trucco... oppure non c'è una mazza... questi non ci servono più... li possiamo mettere dentro... allora... vediamo un pochettino... da che lato possiamo uscire... non da questo... probabilmente... e neanche da questo... ok... abbiamo messo la torcia... l'unico lato che ci poteva essere utile... e qui c'è la marcia verso... eccolo qui... sì ci siamo... ci siamo... me lo ricordo... me lo ricordo... un po' ma me lo ricordo... qui si va... in alto... andando in alto... si arriva verso il... la stanza del leech... ora... io non so se qui adesso mi fanno il culo... perché sto vedendo già un po' troppi mob... perché qua i mob... sono diversi... da quelli che avevamo... che avevamo prima... ovvero... sono più potenti... al centro di ogni scala... c'è lo spawner... me la ricordo... qui c'è qualcuno che mi ha fregato... l'arma... brutto stronzo... brutto stronzo... vieni qua... ridammi la mia arma... mannaggia la puttana... ok... c'è uno stronzo che mi ha rubato l'arma... e andava in giro... correndo con la mia arma... ridammi... quella cazzo di arma... no raga... dove sta... no... non scherziamo con i sentimenti... non scherziamo... sono quasi morto... tra l'altro... guarda che... eccolo... no... non è lui... ok... 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 me la sto vedendo veramente... veramente... molto... molto... brutta... sono morto... sono... eccola... l'ho trovata... allora... è pieno... zeppo di mob... è pieno zeppo di mob... prendiamoci l'axblade... dov'è la mia tomba... eccola qui... rompiamola prima che... mi fanno il culo... rimettiamoci l'armatura... immediatamente... ridammi tutto... brutti stronzi... quello stronzo che mi ha rubato l'arma... mi ha dato un fastidio... raga... che voi non avete idea... naggia la miseria... dammi il tempo... oh... i libri qua... che palle... madonna... qua è tosta raga... qua è proprio tosta... ma io qua mi sa che c'ero venuto... con la ultimate armor... però... ovviamente qui non c'è più... perché non c'è più la mob... la mob... sì... la mod... ok ragazzi... la strategia... allora... deve essere un'altra... assolutamente... perché così non funziona... scusatemi... così non funziona... assolutamente... datevi un'affanculo... datemi una torcia... dove sono le mie torci... eh no... raga... a me mi mancano i pe... ah no... eccole... ah... mi manca anche questo... tra l'altro... in testa... ok... allora... cerchiamo di capirci qualcosa... innanzitutto... bistecche... perché qua... bisogna magnà... altrimenti... non recuperiamo niente... si preannuncia una cosa molto molto difficile... molto molto difficile... allora... strumentazione base... eh... questa è inutile... ce l'ho ma è inutile... cominciamo a togliere sta roba... che tanto non la possiamo usare... questo mi serve... quello in... che è in meteorite... ah... buono... questo lo buttiamo qua... cloud boots... ce li teniamo pronti... che non si sa mai... questa mi serve... e questa pure... ok... abbiamo preso tutto... penso... perfetto... recuperiamo un secondo l'energia... dopodiché... conviene praticamente volare in alto... volare in alto fino alla fine... e arrivare fino al leech... ma se le premesse sono queste... il leech mi apre il culo... proprio in una maniera... immonda... indegna... quindi... la vedo veramente molto molto male... ma molto molto molto... eh... anche perché ho tra l'altro... le obsidian wing... scariche... ok ragazzi... io ci provo... mi metto una torcia... almeno ci vedo... io ci provo... ma... veramente... la vedo malissimo... la vedo malissimo... guardate... qui ci stanno proprio... eccolo... il twilight leech... tra l'altro... non è un leech... normale... perché noi non ci accontentiamo... dei leech... normali... ma vogliamo i twilight leech... mi serve... mi servono dei blocchi... perché io qua devo bloccare la via... assolutamente... sperando di fare a tempo... asti stronzi... che già... mi hanno scassato... ok... ci sono già degli zombetti... che vengono... però... se si è... bloccato... ragazzi... magari a vederlo... sembra facile... ma io mi sto... veramente avvelenando... ok... poi... ci serve una via di uscita... che sarà questa... c'è dell'acqua... perfetto... c'è dell'acqua... e adesso... e adesso... e adesso sono cazzi... questo qui... da quello che so... è veramente tosto... oh... da dove cazzo uscite voi... madonna... da ovunque escono... eh certo... ci mancano solo... gli invitati al party qua... Dio santo... che palle... no raga... l'aikanite lo devo togliere... abbiamo deciso... abbiamo deciso che l'aikanite verrà tolto... perché... blocchiamo l'accesso a sti stronzi... mangiamo... allora... questo è tosto... perché ha delle... degli scudi... che gli ruot... ma che è sceso giù... no... ha degli scudi... che gli ruotano attorno... e fa molto molto male... quindi secondo me... proprio one shot... one kill... però... mai dire mai... magari si riesce a fare... ok... qui in vetro... giusto? ecco che evoca... i suoi scagnozzi di merda... e questo non me lo faccio? come me lo faccio questo? aiuto... aiuto... io non so se gli sto facendo qualcosa... e gli sto togliendo scudi... perché veramente mi sto... sto abbastanza impazzendo... a cercare di capire... allora ci sono tre scudi... due scudi... gli sto togliendo... gli sto togliendo... intanto c'ho degli stronzi... che mi sparano come... come le merde... io sto cadendo qui dentro... aiuto... aiuto... non so come si... si uccidono quei tizi... ok... gli sto facendo comunque... tanto male... cioè nel senso che gli sto togliendo gli scudi... il problema è che sto stronzo... se ne scappa... ok... direi che è giunto il momento di bere... sperando di non morire... ok... ci siamo ricaricati... uno scudo... uno scudo... uno scudo... dai che gli ho dato il primo... il primo colpo... dai 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 dai... dai... dai che è morto... dai che è morto... dai che sei morto... sei morto... dove vai... sei morto... zombie a non finire... zombie a non finire... è morto il leech... è morto... 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 ragazzi ce l'abbiamo fatta... ce l'abbiamo fatta... ed abbiamo il leech trophy... Abbiamo una golden chair spirit Che sti cazzi Enderpearl zombie chapter Miniature yellow heart Golden sword Vabbè queste sono cacate Ragazzi ci siamo fatti il nostro secondo Mega mob Come si pigliano questi? Oh, li voglio Perché? Perché non se ne vengono? Oh Noi dobbiamo decorare la nostra casa Ok Anche un banner Sì, ci prendiamo tutto Eeeh Non c'è No? Non ce l'abbiamo qualche tesorone Tipo Possibile? Questa è la stanza Così? Vabbè Va bene ragazzi Io sono contento perché abbiamo Il nostro secondo trofeo Di questa mod E cioè il leech Adesso io mi rimetterei I miei bellissimi cosi Dove sta? Scusatemi Io mi ero aperto un varco Ah Ah ma ci sono due Entra Ah ecco perché Arrivavano gli zombie Perché ci sono due scale Arca merda Vabbè Perfetto Sta piovendo Però a noi non ci ne frega Perché noi ci siamo fatti il leech E qui c'è qualcosa E qui c'è qualcosa Secondo me Quindi Direi che possiamo buttarci Perché è morbido E Zompettare Zompettare Fieri Di quello che abbiamo fatto Nel frattempo Sempre i cosi Colorati Qua Chi è? Oddio Oddio c'era una statua Dove stava? Eccola Due statue Maledetti Perché non muoiono? Eh io vi guardo ragazzi Eh vi guardo Attenzione Non riesco a Non riesco a picchiarli Sti cazzi Io me ne scappo Io me ne scappo Ciao Madonna E no E no E no E no Non si fa così No 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 Non si fa così Non si fa così Eh vabbè il cazzo Qui c'è gente Che è inseguita da statue Eh Eh vabbè Ma hai rotto proprio Cioè hai proprio rotto Guarda che stronzo Quest'altro È un'associazione A delinquere Se vabbè Uno più grosso Dell'altro Sì certo Dice un'altra statua Aiuto Madonna Sto posto è bestiale Cioè proprio Da stronzi Ok Non ci sono altre statue Io devo guardare la mappa Ma c'ho paura Che mi arriva Qualche statua da dietro Ok mi metto qua Verso Ecco l'altra statue Guardale Guardala Guarda che stronzi Via Oddio speriamo che non ne spona una qui Mica ce n'è una qua No Ho sentito un rumore brutto No Ok pare di no Bene Che palle però Io stavo tanto bello là Qui c'è qualcosa anche Eh Sì Secondo me possiamo fare così Tranquillamente Però prima magna Fio mio Che ti vedo un po' Deboluccio Eh però è bello lontano Porca zozza Vabbè Tanto noi ci abbiamo tempo No a voi piacciono gli episodi lunghi Dai su Oh 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 Ma se Cioè è matematico Che arrivo qua Sempre qua Vado a cadere E tra l'altro Poi mi disoriento Quindi ho bisogno capire Do cacchio Sto girato di qua Ok Io direi di andare proprio lì Perché Secondo me quello lì è un altro landmark Ricordiamoci che abbiamo un bel dungeon Dove siamo caduti l'altra volta Vi ricordate dove c'erano I minotauri Che quello ce lo dobbiamo fare Là c'è anche un bel po' di loot A quanto mi ricordo A memoria Quindi Guardala 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 È pieno Ne è pieno di ste statue È pieno Porco Giuda Ma sa che la mod delle statue La tolgo dopo questo episodio Tolgo questa E mi sa che tolgo pure Il laicanit Mobs Perché veramente Hanno rotto i coglioni Cioè è veramente Ah però il laicanit Eh vai a cagare però Il laicanit Mi dà quella Quest'arma bellissima Dove sta il coso bianco? È sparito? Perché? Era di qua Eccolo lì su Chi è? Chi è? Che cos'è? Che cos'è che mi sta picchiando? Ma cosa? Cosa? Ok c'è qualcosa Che mi sta Che mi sta facendo del male E io non so cos'è Ma che è? Ma che è sta roba? Ma che Perché devo morire così Senza un perché? Cioè ma Ragazzi Ma stiamo scherzando Eppure perché qua C'è stata sta roba Trollstain Già solo il nome Trollstain Ok il gigante L'abbiamo ucciso Era tipo quella sabbia lì È come se fosse sabbia Che brucia Boh Ho sentito di nuovo Il rumore di quelle statue Di merda io Allora è sta montagna Che brucia E altrimenti Non si spiega Ok Pioggia acida Dalla montagna Io devo andare lì sopra Quindi troviamo Ma sarà la pioggia A sto punto raga Perché non Ma Ok lì abbiamo qualcosa Allora Anzitutto Bianco Cosa Principale Poi Vai con le ali E vai a fanculo Ok Eh non è la Eh sì è la La pioggia Io non ho capito Che cos'è che mi sta facendo male In teoria Forse sarà la pioggia L'unica cosa che mi viene in mente Fatto sta che sto per morire Per colpa di sta pioggia Ruffi cloud Raga sto per morire Per qualche motivo Giant miner Ma questo so io raga Questo so io Questa è la mia skin Eh vabbè ma io Già sto a morire di mio però Ma che cos'è sto posto Ok ragazzi Allora Fermi tutti Portale Vediamo se mi faccio male ancora No Allora è quel posto lì Che mi fa male Dobbiamo arrivarci Quando non piove E vediamo se è la pioggia Se invece Anche senza pioggia Mi faccio male Vuol dire che è il posto Nel frattempo Io stavo affrontando Me stesso Gigante Perché quel giant miner Giant miner Aveva la mia stessa skin Cioè quella di halo Nel frattempo Abbiamo un bellissimo Leech trophy Che mettiamo qui Ed abbiamo un altro Bellissimo trofeo Madonna che cosa Spettacolare questa Questa è una cosa Che a me mi sta piacendo Tantissimo Vediamo un po' di No questo no Dai brutto Eh eh no Eh no Ecco così si Ah ma se ne metto Due vicini Aha Ok Bella sta cosa Mi piace Mi piace troppo No era più bello Quelli singoli Vabbè magari Non lo stesso Uno diverso Perfetto No raga È bellissimo Così mi piace tantissimo Singolo pure qua Uno diverso Please Please Vai Gli illuminati E me ne manca uno qua E qua non me lo fa mettere Perché fa angolo Mi sa Ok Vediamo se riusciamo a mettere Eh vabbè no Non così Oh Jesus Oh Perfetto Perfetto Si è messo di lato Ok li abbiamo messi tutti E Beh no Non li abbiamo messi tutti Dai ragazzi Un altro qua Uno singolo qua Io questo non mi piace Prova manco un po' Io non so perché Non riesco mai A rompere Sti cazzo di cosi Vabbè Abbiamo deciso Che rimane così Guardate che bella Adesso tutta colorata Tutta con i disegni E soprattutto Con queste due teste Di cazzo appese Magna della torta Allora Non dovrei avere niente Abbiamo uno zombie chapter Nove cariche insomma Questa golden cosa Che non serve a niente Sturdy wings Che ormai sono quasi morte Queste le rimettiamo qua Queste le rimettiamo qua Questa ce la teniamo Vediamo se ci abbiamo qualcosa Qua dentro Si Questa qua che dobbiamo ricaricare Che però non abbiamo Per il quale Non abbiamo Neossidia No Il gunpowder Ce l'abbiamo Ma non abbiamo L'ossidiana Quindi buttiamo Tutto qui dentro Vai 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 E vai E direi che siamo Già pronti per la prossima Avventura Anche se abbiamo 22 livelli Ragazzi 22 livelli Quindi andiamo a fare Quindi andiamo a fare il nostro Solito rito Protection Vai Aumentiamo la protection Qua Unbreaking Già c'è Quindi andiamo di protection E vai che diventiamo Un pochettino più forti Sempre più forti Ragazzi Per affrontare Sempre più stronzi Quindi Qui c'è sempre Il golden Che finis Che Mi mostra Qualche giorno La nostra missione sarà Di andare ad uccidere Questo stronzo Così non abbiamo più Questa tag qui Io direi che Per adesso È tutto Ripariamo un po' Abbiamo praticamente Sprecato tutti i nostri livelli Ok non possiamo fare più una mazza Questa qui Che piano piano Si sta facendo Speriamo che riusciamo A ripararla Prima o poi E Volevo togliere Laika Nites Laika Knights Come si dice Però poi mi tolgo questa Io questa assolutamente Non me la voglio togliere Oh no 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 Ci vediamo Al prossimo Episodio